oh vabbè niente caduta l'acqua bella a tutti da me subito vi saluto immediatamente c'ho più di un bel fogliettino perché c'è qualche operazione di mercato che qualche squadra qui e li sta facendo ma voglio cominciare dalla mia cara amata essere roma perché abbiamo comprato un nuovo giocatore quindi ciao lo ripeto siamo tornati perché mi piace saluta più volte perché io quando saluto subito all'inizio mi scordo e quindi risaluto è una questione di educazione siamo tornati con questo nuovo video appunto perché ragazzi la roma ha acquistato bianda ieri ha svolto le visite mediche è un giocatore classe 2000 quindi giovanissimo stiamo parlando di un diciottenne che proviene dal l'on l'ens l'on squadra francese che attualmente milita in league league cioè la seconda divisione francese prima di parlare delle caratteristiche tecniche del giocatore vi dico immediatamente che con la roma ha firmato un contratto fino al 2023 di conseguenza un quinquennale non si non riesco a capire o non ho capito l'ho letto da più da qualche parte ma non ho trovato questa informazione quanto percepirà di stipendio alla s roma ma sinceramente vabbè non credo che percepirà 30 milioni d'euro a stagione vestirà la maia numero 28 per coloro che amano le statistiche i numeri e quant'altro e sinceramente quando ho visto quanto lo abbiamo pagato sono rimasto un po così ma poi ho detto mica che la dirigenza sarà pazza se lo hanno pagato tra virgolette così tanto e potenzialmente anche di più probabilmente il giocatore che non conosco bene vale vale insomma quello che che è stato pagato 6 milioni di euro fissi più 5 di bonus al verificarsi di determinate condizioni quindi in totale potremmo dover pagare all'on 6 più 5 11 milioni di euro per un difensore classe 2000 centrale mi sembra veramente una cifra abbastanza elevata considerato che comunque noi difensori titolari ce li abbiamo a livello dei riserve diciamo che non siamo messi poi così vabbè lasciamo perde perché ci abbiamo Manolas ci abbiamo Fazio e ci abbiamo Juan Jesus in teoria Moreno è stato rispedito al mittente quindi va bene forse magari potrebbe servirci da terzo da terzo o da qua non lo so poi dovessero partire Manolas che se dice che il Chelsea lo potrebbe acquistare pagando la clausola recessoria anche se stiamo cercando di trattenerlo Fazio per fortuna finora con l'argentina hanno fatto partire dovesse cominciare a giocare a giocare bene gli fa vincere il mondiale Fazio via a ca vabbè ma quello è un altro discorso parliamo di questo giocatore parliamo di questo giocatore perché appunto è un giovanissimo che ha totalizzato 7 presenze la scorsa stagione in league ne ha fatte però no scusate 5 in league e 2 in coupe de France quindi non ha fatto tantissime presenze però ripeto è un giocatore veramente giovane e se Monci ha deciso di puntare su di lui evidentemente ha prospettive abbastanza importanti adesso andiamo a parlare delle caratteristiche tecniche è un difensore centrale che può indifferentemente fare o sinistro o destro ma come difensore centrale non pensate ai versini perché questo non c'entra proprio niente è alto 1,85 e pesa 82 kg quindi insomma abbastanza alto una stazza abbastanza importante si parla di lui come di un difensore centrale che abbia personalità che abbia velocità un fisico appunto imponente una grande padronanza nel palleggio e sinceramente io adoro i difensori centrali che hanno qualità di palleggio ce n'abbiamo qualcuno che purtroppo a livello di palleggio Manolas ha altre caratteristiche lo sappiamo tutti ormai ma a livello di palleggio Manolas proprio cioè se ci metti un borsone per terra palleggia meglio di Manolas poi a livello difensivo a livello di velocità di recupero palla quelle sono le qualità del difensore vecchio stampo ma nel calcio che si evolve sicuramente anche stanno a passare l'aereo come al solito perché io quando registro allora io durante il giorno non registro mai quando inizio quei 20 minuti a registrare faccio 2 o 3 video di fila passano i bombardieri è incredibile e poi si sente tutto vabbè chiedo scusa a gente che fischia le cose va bene così è veramente mercato qua sotto no mercato il giocatore quindi dicevo ritornando al discorso delle caratteristiche tecniche del difensore che abbiamo preso che ha grande padronanza nel palleggio secondo me potrebbe essere una qualità da cui non prescindere insomma ecco uno spiccato atletismo nonostante sia abbastanza alto ed ha una buona velocità di base quindi ripeto non mi ricordo se l'ho detto perché va bene è stata superata la concorrenza di Siviglia e Monaco ma soprattutto Monci ha dichiarato che vogliono puntare su questo tipo di giocatori così giovani proprio in via della linea verde della Roma per gli anni a venire la mia paura è che questo tipo di giocatore magari potrebbe esplodere non nel senso lato del termine cioè non nel senso vero nel senso lato del termine e quindi poi magari non lo so è un'operazione alla Marquinhos che lo compri a 4-5 milioni di euro e lo rivendi l'anno dopo a più di 30 al Paris Saint Germain ecco spero che non sia questa la linea perché lo ripeto io preferisco è un modo di pensare mio non è detto che quello che penso io poi sia condivisibile da tutti ragazzi il calcio è fatto dei pareri il mio parere è che se devi prendere giocatori del genere per farli esplodere e farli diventare forti l'idea mia per creare un gruppo solido con delle fondamenta è quello di tenerli proprio per rafforzare la squadra per la stagione successiva quindi non so fino a che punto possa rientrare nei piani della Roma certo è che noi la difesa titolare attualmente ce l'abbiamo mercato permettendo potrebbe essere un prospetto ripeto interessante perché se ci hanno messo gli occhi sopra anche Siviglia e Monaco sicuramente un motivo ci sarà io mi auguro che possa esplodere nel senso lato del termine e che possa diventare uno dei perni della difesa della Roma del futuro questo è quello che penso io ma voglio sapere da voi da voi perché urlo che cosa ne pensate nei commenti perché di prima mattina a me me parte la brocca quando prendo troppo caffè siccome sono già la terza tazza e quindi faccio così mi fate sapere voi che cosa ne pensate gentilmente nei commenti di questo acquisto andate a spulciare su youtube qua e là e potete trovare qualcosina insomma sul giocatore sulle capacità di anticipo colpo di testa, fase difensiva ma anche fase offensiva perché comunque i difensori di oggi devono saper salire sui calci d'angolo per andare a provare a svettare di testa anche perché col calcio che si evolve ormai gli attaccanti al 90% sono tutti i tappi ed in gioco a parte o comunque diciamo che sta cambiando il calcio e così sta evolvendo una volta i ruoli erano i due difensori centrali dovevano essere arti 3 metri e 80 l'attaccante centrale doveva essere l'attaccante il 9 vero quello che stava in aria tutto il tempo arto 12 metri capoccia o comunque fisica adesso vabbè è un altro discorso come è giusto che sia le cose si evolvono mi piace commentate condividete iscrivetevi al mio canale se ancora non lo avete fatto e vi ricordo di passare tramite il commento bloccato in alto tramite il link in descrizione per iscrivervi o seguirmi su instagram ma non solo anche sul mio canale telegram perché vi fate gli affaracci miei e vi invio le feed che youtube ultimamente non sta mandando o meglio manda giorni alterni in un giorno è capace che faccio un video e vedo che comunque lo aprite perché avete ricevuto la feed e in altri il video proprio non riceve perché non sapete che è uscito quindi se mi seguite su instagram e su telegram oltre a farvi i miei affaracci vi mando proprio io personalmente le feed fatemi sapere il vostro parere mi sono dimenticato di dire una cosa molto importante che Biandà viene considerato il successore di Varane quindi insomma il paragone sicuramente è importante però cioè il paragone lascia il tempo che trova poi è il campo a parlare è il giocatore che deve dimostrare di valere quello per cui è stato pagato sì pagato anche volevo dire anche altre cose che non mi vengono in mente perché sto talmente rimbambito da caffè che non riesco a fare un ragionamento logico e appiccica due parole una fianco all'altra quindi ragazzi miei alla prossima con un nuovo video comunque un altro acquisto il nono dell'era Monci di questa stagione ci fermeremo qui? chi lo sa? non lo so dipende se venderemo altro probabilmente ricompreremo cioè l'anno prossimo tutta una Roma totalmente diversa da quella che abbiamo eh ciao